Buon pomeriggio, iniziamo la seduta del question time, approfittiamo dell'arrivo dell'assessore Cecchini, se siete tutti d'accordo lo facciamo iniziando dalle sue interrogazioni. Iniziamo con l'oggetto numero 7, intendimenti della giunta regionale per salvaguardare le produzioni sul territorio umbro dell'azienda Aboca S.p.A. Si tratta di una interrogazione presentata dal Vice Presidente Mancini, che vedo già pronto. A lei la parola. Grazie Presidente, grazie Assessore. So che lei ha fatto un viaggio e quindi sarò molto sintetico per non affaticarla ulteriormente. Un viaggio, un viaggio di lavoro, se ho capito. Prima non era detto che tornava alle due di notte, non so, ho capito male? Era all'estero? No, non so, va bene, mi chiedo scusa, ho frainteso. No, va bene, mi scusi. Allora, niente, la questione Aboca, tutti sanno, Aboca è una società molto importante che insiste nell'Alto Tevere a cavallo tra Umbra e Toscana, praticamente cosa chiediamo? Siccome questa azienda è stata fondata nel 1978, è una struttura con una filiera produttiva totalmente verticalizzata, considerato che gestisce direttamente l'intero ciclo produttivo della produzione della materia prima di qualità attraverso coltivazioni biologiche fino alla verifica degli effetti farmacologici clinici dei prodotti. Aboca è un'azienda importante che nel 2016, in piena crisi, ha raggiunto i 120 milioni di euro con un fattorato in prospettiva per il 2016 di 180. La società ha una sua dislocazione, ripeto, bi-regionale tra Umbria e Toscana, la sede societaria Sansepolcro, quindi in Toscana, mentre i stabilimenti produttivi sono situati nel comune di Pistrino. Attualmente la società impiega 830 dipendenti, di cui 230 assunti solo nel 2014 e nel 2015, quindi in piena crisi questa azienda si espande. Aboca ha anche in coltivazione 1.100 ettari, di cui 700 in Valtiberina e 400 in Valdichiana, anche questo per quello che ci concerne conoscere è Toscana. In totale produce attualmente 2.300 tonnellate di prodotto fresco. Dunque, preso il fatto che tutte le superfici della società Aboca sono coltivate in conformità del Regolamento Europeo su agricoltura biologica, che prevede di preservare la struttura e gli equilibri micro-organici del terreno, l'utilizzo di varietà vegetali adatte all'ambiente specifico, l'esclusione di fertilizzanti, di antiparassitari chimici, nonché il divieto di utilizzare OGM, considera tuttavia che nei terreni attivi, qui diciamo il succo del documento, a quelli coltivati da Aboca sono presenti coltivazioni ad alto tasso di uso di pesticidi e di prodotti chimici incompatibili con queste produzioni biologiche. Preso atto che gli antideputati alla verifica del corretto utilizzo dei pesticidi e dei prodotti chimici in agricoltura non avrebbero effettuato i necessari controlli, questo è un dubbio, non avrebbero, quindi non ho cognizione certa, comunque i dubbi insistono, i necessari controlli che i comuni della Valtiverina interessati alle problematiche sopra riportate non si sarebbero attivati per trovare soluzione alle richieste formulate dall'azienda Aboca. Preso atto che Aboca sarebbe intenzionata, al fine di salvaguardare la qualità della propria produzione, ad acquistare una grande azienda agricola in Marocco dove gli OGM sono banditi, con questa mia interrogazione chiedo l'eventualità potrebbe comportare un grave danno per l'intera comunità dell'Alto Teperno che potrebbe avere riflessi occupazionali. Quindi interrogo lei, Assessore, di conoscere quale azioni intende intraprendere per far passare la produzione dell'azienda Aboca. Grazie. Prego, Assessore Cecchini. Aboca, come diceva il consigliere Mancini, è una grande azienda che produce, è nel settore dell'agrofarmaceutica più che in quello dell'agricoltura, anche se naturalmente la materia prima è sostanzialmente costituita da prodotti agricoli che vengono coltivati, come egli diceva, la gran parte nel territorio toscano e una parte nel territorio dell'Umbria. Diciamo dal fascicolo dell'aziendale di Aboca emerge che circa 144 ettari sono in Umbria e i rimanenti 617 ettari dell'azienda sono in Toscana. Quindi la stragrande maggioranza delle produzioni avvengono in Toscana. C'è una porzione consistente che si concentra in tre comuni dell'Umbria. L'Umbria, che da sempre ha sostenuto le produzioni biologiche, recependo le direttive comunitarie e anche quelle nazionali, sostiene il biologico per diffondere la conoscenza dei prodotti biologici e tipici, con particolare riguardo ai caratteri legati alla tradizione e alla sicurezza alimentare, ma anche per la valenza ambientale che riveste la coltivazione biologica. La normativa sul biologico prevede una sorta di coesistenza con le altre culture convenzionali, prevedendo proprio la protezione delle culture biologiche e le fasce di protezioni, che i produttori biologici e non chi pratica l'agricoltura convenzionale sono tenute a rispettare. Cioè sono i produttori che scelgono la metodologia del biologico che debbono rispettare fasce, quelle stabilite dalla legge, di distanza delle altre culture e non viceversa chi pratica l'agricoltura tradizionale. Questo è quanto disciplinato delle normative nazionali ed europee. Per quanto riguarda la produzione del GM, la Regione applica il principio di precauzione e al fine di evitare le perdite di reddito per le culture convenzionali e biologico, vieta la coltivazione in pieno campo di piante geneticamente modificate, anche ai fini sperimentali. La stessa legge prevede che le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati e comunque presenti nel ciclo produttivo siano escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributo della Regione. Quindi in questo caso la Regione non lo afferma solo con delle norme, con un voto del Consiglio regionale, ma anche applicando i principi laddove appunto con i criteri seleziona chi fa un tipo di agricoltura rispetto a chi ne fa un'altra. In Umbria inoltre circa 87.000 ettari sono legati alla possibilità che l'Europa dà di utilizzare le misure agroambientali appunto per essere compatibili con l'ambiente, per portare avanti azioni politicamente corrette per garantire i principi di cui parlavo prima. l'azienda aboca rientra tra quelle imprese che hanno... della Regione dell'Umbria, dello sviluppo rurale, dell'agroambiente, così come tutte le altre, diciamo, tradizionali. Per quanto ci riguarda come Regione non abbiamo scelto di sostenere con maggiore efficienza un settore o di un altro, ma di tenere in equilibrio quelle che sono le vocazioni del territorio. Quindi in questo caso appunto consentendo che nel territorio dell'Umbria ognuno possa scegliere di produrre secondo, diciamo, le proprie pianificazioni aziendali e le vocazioni del territorio. Io tra l'altro ho incontrato in più di un'occasione l'azienda e i rappresentanti dell'azienda aboca per affrontare sia questi aspetti sia anche il fatto che ha evidenziato l'intenzione di mettersi nella produzione anche di tabacco utilizzando il sostegno al biologico per produrre tabacco biologico. Questo è possibile, non è escluso da quelle che sono le produzioni sostenute anche dal biologico e allo stesso tempo con mercati abbiamo convenuto che le misure, le norme, gli incentivi e tutto quello che un'istituzione può fare per sostenere un'azienda che è appunto leader a livello europeo e mondiale nel campo dell'agrofarmaceutico è nelle nostre intenzioni naturalmente senza privacredicazioni e senza andare in urto di collisione con altre norme che garantiscono produttori di agricoltura tradizionale. Sono andata a letto tardi non perché ero in viaggio ma questo mi porta ad essere forse meno sintetica quindi mi scuso con il consiglio per il fatto che ho sforato nella risposta. Grazie Assessore, il tempo stringe perché sapete che è contingentato solo per le riprese. Levo inteso quella di un viaggio di lavoro quindi mi dispiace, va bene, quindi è una parentesi. Le volevo dire, Assessore, lei in pratica esprime una neutralità di comportamento della Giunta e della sua azione tra l'agricoltura tradizionale e quella emergente biologica. Tuttavia i dati sarebbero interessanti da stimolare perché questa azienda da sola ha creato una marea di occupazione. Io devo dire che lei, come a poc'anzi ha ricordato, è intervenuta in ritardo rispetto alla denuncia del dottor Mercato Valentini che nel comunicato stampa del 22 di agosto diceva la crociata diffida 40 agricoltori dai pesticidi, minaccia la nostra produzione. Il primo intervento lei l'ha fatto esattamente cinque mesi dopo. Questo lo deve dire Arpa però che certifica, se è vero o meno, che le acque e le falde sono inquinate. Non il primo imprenditore che si sveglia la mattina. Il 7 gennaio 2016 lei, insieme al sindaco Bacchetta del comune di Città di Castello, che assolutamente non è interessato dal territorio perché Aboca è residente nel comune di Citerna e di Sansepolcro, quindi diciamo inopportuno questo tipo di discorso. Tant'è che il sindaco Giuliano Falaschi mi risulta piuttosto indispettito dal fatto che sia fatto questo tavolo senza la sua convocazione. Quindi, ripeto, cinque mesi rispetto al comunicato stampo. Quindi è un motivo per cui non sono soddisfatto. Non sono soddisfatto anche dal fatto che certe strategie non vengono percepite in anticipo dall'attività amministrativa della Giunta perché sono frutto, secondo me, di vecchi metodi. Bisogna andare avanti. Le due cose, come poc'anzi lei ha accennato, sono possibili. La invito attraverso il nuovo PSR a produrre atti amministrativi che permettano questa convivenza e mi ricordo che non è certo con le politiche tradizionali e la politica europea che vuole importare nel nostro territorio 35.000 tonnellate di olio d'oliva dalla Tunisia senza tazzi e altrettante migliaia di tonnellate di succo di pomodoro e di pomodori dal Marocco. Quindi andiamo avanti e preserviamo i nostri territori. Grazie, Presidente. Grazie e raccomando a tutti il rispetto dei tempi per la correttezza che dobbiamo a chi ha magari l'interpellanza, l'interrogazione in fondo, in coda al nostro ordine del giorno. E adesso direi di procedere con la seconda interrogazione all'ordine del giorno. Il giorno è l'oggetto numero 10, rivolta all'assessore Bartolini da parte del consigliere Nevi. Trasparenza relativamente agli atti adottati dalla Giunta regionale, intendimenti della Giunta medesima affinché l'accesso alle proprie deliberazioni sia reso quanto più fruibile, completo e tempestivo. Prego, consigliere Nevi. Grazie, Presidente. Questa è un'interrogazione che definiamo molto importante, a nostro avviso molto importante, perché attiene alla trasparenza. Qui si è detto spesso che vogliamo che sia una casa di vetro, che i cittadini abbiano accesso veloce a quelle che sono le determinazioni del potere politico e invece purtroppo abbiamo un sistema che ancora è veramente poco trasparente per usare un eufomismo. E quindi considerato invece che abbiamo dei supporti informatici, delle piattaforme web che già sono attive, non si capisce perché invece come tra l'altro scritto e ribadito dall'articolo 5 del decreto trasparenza non si possa accedere allo stesso modo semplicemente alle delibere di Giunta regionale. E quindi chiediamo quali iniziative intende intraprendere la Giunta affinché la consultazione e la reperibilità delle delibere prodotte dalla Giunta sia resa quanto più fruibile, completa e tempestiva a tutti i cittadini, oltre che ai soggetti interessati, consiglieri regionali compresi. So che l'assessore Bartolini ha già più volte parlato di questa cosa, noi però oggi siamo interessati a sapere non che ce la metteremo tutta, ma quando si potrà avere finalmente la soluzione di questo che è un problema annoso perché anche di questo ne parliamo da cinque anni. Grazie. Prego, Assessore Bartolini. Come già ho avuto modo di interloquire, rappresentare anche in Commissione il tema rappresentato dal Consigliere Nevi è un tema che sia sottoscritto in qualità di Assessore sia alla Giunta interessa. Lo aggiorno sulle ultime cose che abbiamo fatto. Con determina dirigenziale 1725 del 31 dicembre 2015 è stato commissionato alla società Umbria Digitale in house il miglioramento della piattaforma per rendere accessibile anche le delibere di giunta. Aggiungo che in questo momento, come sapete, sono stati preadottati dal Consiglio dei Ministri i 12 decreti di Madia, uno di questi è il cosiddetto decreto FOIA, Freedom of Information Act, che penso verrà approvato massimo aprile, che richiede e amplia ulteriormente il diritto di accesso alle informazioni. Sotto questo profilo quindi daremo istruzioni anche con delibere di giunta, possibilmente anche anticipando il decreto, in modo anche da leguarci a questa normativa che sta per essere approvata dal Governo nazionale. Comunque, ribadisco, io mi vorrei anche dare una scadenza, le strutture evidenzano diversi problemi, però io sinceramente cercherò di imprimere veramente un diverso passo perché condivido l'esigenza di consentire una trasparenza con le nuove modalità informatiche, perché è chiaro, ce ne sono anche altre, però oggi come oggi avrei la possibilità di scaricarla delibera in tempi reali. Già avevo detto al Consigliere Nevi il nostro modello un po' dovrebbe essere l'albero pretorio che giascia nei comuni, quello è l'obiettivo e mantengo l'impegno. Prego, Consigliere Nevi. Grazie, Presidente. Io prendo atto della risposta dell'assessore Bartolini, siccome è nuovo, gli do il beneficio dell'inizio del suo lavoro, però questa cosa che lui ha ripetuto adesso noi ce la sentiamo ripetere da parecchio tempo. Il fatto che sia stata data Umbria Digitale non mi preoccupa un po', perché purtroppo, visti i precedenti, insomma, speriamo bene. Noi però oggi ci dichiariamo solo parzialmente soddisfatti perché aspettiamo che queste enunciazioni dei principi, che lei ha fatto già in occasione della presentazione del lavoro del suo assessorato, diventano finalmente concretezza, diventano finalmente delibere e finalmente tutti i cittadini possano scaricare, come avviene anche in moltissimi piccoli comuni della nostra regione, le delibere della giunta regionale, le determinazioni dirigenziali e quant'altro. Grazie. Grazie, Consigliere Nevi. Direi di saltare adesso l'oggetto numero 15 per l'assenza della Presidente Marini impegnata con il Procuratore Caselli e il Procuratore Gardella in un'iniziativa sulla sicurezza sul lavoro e di passare all'oggetto numero 16 rivolto dal Consigliere Leonelli e all'assessore Cecchini, futuro dell'ex cinema Turreno di Perugia, informazioni della giunta regionale a riguardo. Prego, Consigliere Leonelli. Sì, grazie Presidente. Dunque, diciamo innanzitutto che per i perugini il cinema Turreno, l'ex cinema Turreno, non ha bisogno di grandi presentazioni, nel senso che è un luogo nel quale generazioni e generazioni di perugini, compreso il sottoscritto, hanno, diciamo, visto per la prima volta i film più importanti degli ultimi vent'anni, no, ma sicuramente quelli da prima del 1990, comunque sia la metà degli anni 90, sicuramente. Per i non perugini il cinema Turreno, chiaramente anche qui avrebbe poco bisogno di presentazioni, ma sicuramente magari qualcuno lo conosce, è oggi uno spazio storico, sito in pieno centro, che di fatto è adiacente, è prospicente di fronte al Duomo di San Lorenzo, e è chiaro che oggi si discute di un progetto di riqualificazione ampio per uno spazio che nasceva a fine Ottocento come spazio appunto dedicato al cinema rispetto al Teatro del Pavone e al Teatro Morlacchi. Aveva una sua riqualificazione nel 1953 con una capienza di 2.000 posti e poi una successiva intervento nel 1990 con una capienza ridotta a 1.200, ma una sala secondaria, appunto la sala Turrenetta, che anche questa funzionava appunto come cinema. Ora è chiaramente chiuso da qualche anno e si sta ragionando di un progetto di riqualificazione. Il primo momento in cui si è parlato del progetto di riqualificazione era legato al progetto di Perugia, capitale europea della cultura. Un progetto che chiaramente sia allora che oggi nasce sulla base dell'intervento di più soggetti. C'è il Comune di Perugia, ma c'è la fondazione Cassa del Risparmio e c'è chiaramente la regione dell'Umbria. Ora devo dire che si sta sviluppando un dibattito in città molto interessante. Io sono molto contento da cittadino quando vedo che più energie di questa città dibattono sul tema del cinema e del teatro del Turreno e quale appunto debba essere la destinazione. C'è chi parla di casa di Umbria Jets, c'è chi parla di casa della cultura, c'è chi parla di uno spazio multifunzionale. Autorevoli esponenti della società perugina si stanno confrontando su questo. Io credo che questo dibattito faccia bene alla città di Perugia, una città che non deve chiaramente arrendersi alla chiusura di uno spazio del genere e che per tornare ad essere competitiva sullo scacchiere nazionale ha bisogno di uno spazio del genere. E allora io credo che accanto a questo dibattito ci sia l'importante e fondamentale ruolo della regione che ha appunto ragionato su risorse importanti, mi pare 3 milioni e mezzo, sicuramente una cifra molto significativa, poi mi darà delucidazioni l'assessore. C'è il lavoro della fondazione, ma al tempo stesso c'è, insieme a uno studio di fattibilità, anche l'ultimatum della fondazione che dice che entro marzo, appunto nella stampa recente, deve essere presentato questo tipo di studio di fattibilità promosso dal comune. Allora, la mia domanda è quello di capire appunto fino in fondo lo stato dell'arte del progetto di qualificazione del Turreno per quello che conta la regione, tenuto conto dell'importanza strategica di questo spazio sia per la città di Perugia che ovviamente per la regione stessa. Prego, Assessore Cecchini. Ma sì, proprio ieri c'è stato un incontro anche con l'assessore Fioroni del comune di Perugia che ci ha consentito di fare il punto su questo che è senza dubbio un progetto strategico per la rimessa appunto del centro storico di Perugia e delle sue funzioni. Nel luglio scorso la Presidente della Regione ha siglato un protocollo d'intesa con il comune di Perugia la fondazione Cassa di Risparmio la quale si è impegnata ad acquistare il Turreno per poi rimetterlo a disposizione per due terzi del comune per un terzo della regione a fronte di impegni che il comune e regione avrebbero assunte ed in questo caso il comune ha assunto l'impegno di portare avanti le procedure legate all'agenda urbana e anche tutto quello che riguarda la modalità sia per affidare lo studio di fattibilità sia anche poi per selezionare il soggetto gestore e questo vuol dire mettere a fuoco le funzioni perché qualsiasi persona credo qualsiasi soggetto che partecipa ad un bando per gestire una qualsiasi cosa ha bisogno di capire per andare a fare che cosa quindi credo sia preliminare la discussione sul che cosa fare come appunto a modernare riposizionare nella vita culturale sociale cittadina il Turreno la regione si è impegnata a mettere a disposizione fino a 2 milioni di euro attraverso l'agenda urbana e un milione e mezzo di euro dall'asse quinto quindi gli attrattori culturali e lì noi abbiamo oltre 14 milioni di euro che destineremo nelle prossime settimane al diciamo alla progettualità dei comuni dell'Umbria c'è già una delibera della giunta regionale che afferma che un milione e mezzo di questi siano destinati al recupero del Turreno c'è un certo ritardo anche per il fatto che queste risorse vanno spese entro il 2020 perché sono risorse comunitarie e quindi sia agenda urbana che gli altri hanno bisogno di marciare altre risorse con un passo spedito di questo appunto su questo c'è stato un confronto anche ieri immaginando che nel mentre ci è affidato questo studio di fattibilità la città la regione possa anche discutere e dare una mano nel selezionare la funzione proprio perché in questo caso si tratta di un immobile importante da un punto di vista storico strategico per le funzioni della città di Verugia che è città capoluogo per la quale credo sia dovere di ognuno di noi lavorare per ridefinire funzioni che abbiano rango funzioni di rango che attengono appunto a una città che è capoluogo di regione e in questo senso credo che quella dialettica che è aperta qui e aperta altrove possa concludersi nei tempi più stretti possibili per poi andare avanti e individuare qual è la destinazione più adatta sapendo che questa è una regione che ha una città capoluogo particolare con dei luoghi dove si può fare cultura spettacolo teatro cinema ad esempio concludo che vanno dai 500 600 posti del Pavone al massimo 800 posti del teatro Morlacchi che è una regione che prevalentemente vive d'estate perché ha grandi luoghi aperti per ospitare per fare diciamo sia cultura che eventi legati anche ai gusti alle dinamiche più dei giovani credo che anche di questo si debba tener conto nel momento in cui si rimetta a fuoco la funzione di un luogo che è strategico per Perugia rispetto al quale io credo si debba ragionare immaginando anche tutto quello che c'è oltre al turreno di beni culturali di attività commerciali di food immaginando appunto di rimettere a fuoco le funzioni dell'acropoli di Perugia e non solo semplicemente in questo caso di un progetto che interessa il turreno prego consigliere Leonnelli ringrazio l'assessore alla cultura per la risposta articolata sul tema io credo che dalla risposta emerga sicuramente la volontà della regione dell'Umbria di investire sia delle risorse ma anche politicamente soprattutto su questo progetto che è un progetto chiave per la città di Perugia e il rilancio del capoluogo appunto nello scacchiere nazionale magari anche internazionale per questo credo che sia importante accanto alle risorse ingenti che mi sembrano condizione necessaria per la riqualificazione del turreno che metterà la regione anche un'attività tesa allo stimolo della risolutezza del comune di Perugia nel percorso progettuale credo però contestualmente che le forze politiche a cominciare dal Partito Democratico debbano avviare una fase di discussione e comunque anche di ampio ascolto della città di Perugia che poi magari potrà culminare anche con una mozione presentata in questa sede a partire dai consiglieri di maggioranza del Partito Democratico su un progetto che ripeto noi riteniamo chiave per questa città e il fatto che oggi se ne dibatta e che le energie migliori di questa città ne parlino pubblicamente è solo un grande elemento di merito del quale la politica e le istituzioni non devono avere paura su questo appunto invitiamo la regione a svolgere il proprio ruolo a continuare a svolgere il proprio ruolo così come sta facendo con un grande apporto sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico grazie consigliere leonelli continuiamo con l'oggetto numero 17 si tratta di una interrogazione presentata dai consiglieri liberati e carbonari e rivolta all'assessore Cecchini informazioni della giunta regionale riguardo al progetto di razionalizzazione del sistema di gestione della relativa viabilità di collegamento della discarica di Borgo Giglione in territorio del comune di Magione intendimenti della giunta medesima riguardo alla necessità di immediato avvio della realizzazione di una nuova discarica urbana di Terni prego consigliere liberati si salve nel titolo c'è un errore non commesso da noi e dunque ci riferiamo a le situazioni che conosciamo bene che toccano da nord a sud l'Umbria le criticità ampiamente certificate nel sistema rifiuti oggetto peraltro di una commissione di inchiesta anche in questa regione qui in particolare richiediamo una riflessione su due punti il primo riguarda la razionalizzazione del sistema di gestione punto rifiuti e della viabilità di collegamento di Borgo Giglione Maggione Perugia una discarica importante per il capoluogo regionale e perché in appena due mesi a seguito del progetto presentato da TSA peraltro oggetto interdittivo antimafia peraltro oggetto di indagini della procura distrettuale antimafia e quindi insomma non proprio dettagli dal 22 settembre a fine novembre la regione dell'Umbria ha consentito a TSA di avere il via libera sul progetto come dire come se nulla fosse tutto ok ma non sono stati acquisiti i pareri delle belle arti non è stato risposto al comitato osservatorio di Borgo Giglione abbiamo qua ovviamente tutta una serie di criticità che potrei leggere una ad una Arpa Umbria che ha evidenziato il problema del biorattore su cui c'è stata finalmente una presa di posizione da parte della regione ma su tutto il resto si va avanti come nulla fosse eppure queste indagini dovrebbero anche imporre una riflessione sugli effettivi conferimenti in discarica perché sono oggetto del progetto di TSA poi c'è l'altro elemento altrettanto simpatico relativo a quanto accaduto alla discarica ex discarica urbana di Terni dove mancando un impianto di trattamento del percolato grandemente concentrato diciamo da ammoniaca il percolato per anni sia della discarica ex discarica urbana che di quella di Tissencrupp è finito per anni decenni nel fiume nel fiume nera nelle falde acquifere e anche qui naturalmente tutto bene ma soprattutto la vicenda assunto del grottesco perché il comune di Terni con la sua giunta per ben 13 volte ha deliberato frazionando mensilmente diciamo l'importo evitando quindi la gara europea e assegnando direttamente l'appalto 42 dei termici sono state parte dei dirigenti alla fine interviene dalla magistratura e oggi c'è la turbata libertà degli incanti e abbiamo scoperto che però un impianto di trattamento costava tra i 200 e i 600 mila euro quindi sono stati buttati via 5 milioni di euro con cui avremmo potuto fare a Terni inubi e tante altre cose quindi cosa si chiede all'assessore se questo progetto di S.A. su Borgogiglione che ha avuto il via libera insomma in base a quali informative e analisi lo abbia avuto e se non sia stato intempestivo soprattutto in relazione a quanto accaduto sia a opera della prefettura che da parte della procura dei settori antimafia nonché per quanto riguarda il caso Terni se la regione non voglia intervenire con un atto di urgenza con ordinanza per avviare immediatamente un impianto di trattamento del percolato senza mandarlo in giro con tutti i rischi che ciò comporta e senza spendere altri denari con affidamenti diretti illegali grazie prego assessore sì il consigliere liberati anche forse per mantenerci più svegli ama spesso mischiare le cose quindi mettere insieme le pere con le mele e anche a volte le mele con le noci intendendo dire che un conto è tutto quello che riguarda la richiesta di legittimità degli atti che attengono le determine che hanno riguardato Borgo Giglione ad inizio anno altra cosa le vicende più ternane che stanno in capo alla responsabilità del comune a noi non risulta né alcuna richiesta di ampliamento di discariche né alcuna richiesta per il trattamento del percolato a livello regionale e gli uffici lavorano sulla base appunto di quello che sono e la regione quindi le nostre competenze o l'attivazione di procedure laddove siamo chiamati in causa però eviterei come dire di mettere insieme tante cose che tra loro hanno anche pochi elementi in comune per complicare ancora di più un tema e un settore quello dei rifiuti che è delicato difficile che va affrontato prendendo le cose dal verso giusto il consigliere chiedeva se è tutto regolare di fatto se gli atti che sono stati compiuti ad inizio un anno per percorrere la viabilità si tratta di circa sei tira al giorno che arrivano a Borgo Giglione trasportando prevalentemente forzo se c'è la regolarità appunto di queste determini dirigenziali che naturalmente sono state fatte tenendo conto non solo dell'avvio di procedure ma anche del rispetto di tutto quello che le procedure appunto prevedono sia in termini di accoglimento del tutto l'iter che riguarda le osservazioni messe a disposizione dal comitato osservatorio Borgo Giglione che sono state introdotte nella procedura che appunto tiene insieme tutti i soggetti che ne hanno titolo sia recependo e quindi raccogliendo tutte quelle che sono le autorizzazioni necessarie che vanno dai pareri dei servizi regionali risorse idriche e rischi idraulico servizi qualità dell'ambiente rifiuti attività estrative servizio paesaggio territorio geografia e di arpa umbra nessuno dei quali rivela che realizzazione del progetto possa appunto indurre in problematiche da un punto di vista ambientale o da un punto di vista che va ad alterare le pianificazioni che stanno in capo a Borgo Giglione analogamente per quanto riguarda la determina con la quale si modifica la prescrizione originaria legata all'utilizzo della strada di accesso alla discarica ai soli mezzi di trasporti rifiuti sulla base di analogo provvedimento del comune di Perugia riguardanti il transito di mezzi di cava perché c'è una cava in quel territorio in attesa che sia individuata una soluzione alternativa il transito dei mezzi di trasporto dei rifiuti è stato consentito nei limiti di quanto strettamente necessario ad assicurare la continuità del servizio di smaltimento sulla base di un'equilibrata ripartizione dei flussi di traffico su tutta la viabilità attualmente disponibile questo appunto per dire che le determine che sono state fatte dirigenziale corrispondono non solo a procedure che sono state rispettate ma anche a quanto previsto dalla pianificazione regionale per la discarica in oggetto prego consigliere liberati e allora tutto bene banalona marchesa noi la ringraziamo naturalmente non siamo d'accordo in quanto in quanto la situazione è sotto gli occhi di tutti è una situazione gravissima da nord a sud e per questo mescoliamo le mele con le noci come lei dice ma in realtà parliamo sempre di rifiuti di monnezza di tutte quelle mafie in realtà che stanno dietro questo sistema e che hanno visto hanno fatto hanno visto in Umbria una terra da conquistare su cui fare sacco in danno degli Umbri io credo che su questo facciamo bene andare avanti con la commissione d'inchiesta fino a quando non otterremo tutta la verità anche in merito alle gare degli ati dove hanno vinto i soggetti con lo 0,1% di sconto e di fatto noi abbiamo garantito a grandi gestioni a grandi poli del settore milioni e milioni di euro in danno dei cittadini Umbri che pagano mega bollette famiglie e imprese grazie Regione bene passiamo ora all'oggetto numero 18 si tratta di una interrogazione della consigliera Carbonari rivolta all'assessore Paparelli interventi posti in essere dalla giunta regionale presso il governo nazionale e la banca d'italia in esecuzione della deliberazione dell'assemblea legislativa numero 30 del primo 12 2015 affinché i risparmiatori Umbri vittime del decreto legislativo 16 11 2015 numero 180 cosiddetto salvabanche vengano quanto prima rimborsati prego consigliere Liberati Carbonari grazie presidente dunque questa interrogazione appunto come lei ha giustamente osservato fa riferimento alla precedente decisione presa il primo dicembre da questa assemblea legislativa in seguito ai problemi gravissime difficoltà finanziarie che sono state riscontrate per quegli istituti di credito nodi a tutti noi e in seguito a queste difficoltà il consiglio dei ministri ha posto in essere quel meccanismo di salvataggio di questi istituti comportante l'azzeramento del valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate sottoscritte dai risparmiatori quindi premesso quindi che la regione è stata poi colpita pesantemente dal provvedimento con migliaia di risparmiatori coinvolti a livello anche regionale anche se non abbiamo contezza del numero preciso ma a livello nazionale dovrebbero essere circa 130.000 risparmiatori interessati e che purtroppo in molti molti casi questi risparmiatori coinvolti erano stati in qualche modo diciamo tra virgolette indirizzati verso quel tipo di investimento speculativo senza un'adeguata conoscenza dei rischi derivanti dall'investimento finanziario che appunto sono stati indotti a sottoscrivere e lo stesso commissario europeo alla stabilità Jonathan Hill ha appunto detto che le banche coinvolte hanno venduto a risparmiatori prodotti inadeguati quindi tenuto considerato che appunto il primo dicembre questa assemblea ha approvato la mozione 275 dove appunto si sollecitava la giunta regionale ad intraprendere tutte le misure necessarie affinché il governo tuteli i risparmiatori ed investitori che si sono appunto trovati nella situazione di risparmi azzerati e quindi si interroga la giunta per conoscere le misure che la medesima abbia sino ad oggi dal primo dicembre ad oggi posto in essere sul governo nazionale sulla banca d'italia intendo dire la corrispondenza gli incontri le richieste di intervento affinché questi risparmiatori umbri vittime del decreto possano in qualche modo ricevere senza possano ricevere al più presto i relativi rimborsi grazie prego assessore paparelli sì grazie presidente ma con riferimento all'interrogazione della consigliera carbonari evidenzio che come noto la tutela del risparmio entra dalla ricompetenza esclusive del governo nazionale la vicenda come noto prende le mosse dalla situazione delle banche coinvolte nell'operazione di salvataggio che ha portato all'applicazione delle regole europee sul bail-in portando di fatto all'azzeramento del valore delle azioni e delle obbligazioni come è stato ricordato detenute come evidenziato da decine di migliaia di risparmiatori con impatti consistenti sulle famiglie e sulle situazioni patrimoniali delle singole persone la regione e come del resto molte altre realtà territoriali e regionali ha sensibilizzato in primo luogo il governo rispetto sede anche di confedenza delle regioni rispetto alla delicatezza della situazione agli impatti sul territorio che questa situazione sta generando sollecitando anche l'adozione del provvedimento che potrà consentire l'indennizzo dei danni subiti dalle fasce più deboli della popolazione a questo scopo di intesa con i governi regionali delle regioni maggiormente coinvolte la regione Umbria sta valutando le modalità per poter supportare i consumatori nel percorso legale finalizzato al riconoscimento dei loro diritti questo potrebbe avvenire ad esempio attraverso la previsione di un intervento da inserire nel contesto di bilancio di previsione 2016 con la costituzione di un fondo destinato a coloro che in questo momento stanno avendo i problemi ben noti sulle banche e che hanno un reddito inferiore ad un parametro che sarà stabilito tenendo conto delle necessità di supportare le fasce più deboli della popolazione colpita attraverso questo intervento dalle persone vorremmo infatti per tali persone vorremmo infatti poter attivare un sostegno delle spese legali che dovranno supportare i fini del recupero di quanto perduto è un gesto di attenzione che la regione intende realizzare rispetto alle famiglie interessate nei limiti delle competenze ovviamente che sono proprie della regione stessa questo potrebbe essere un atto concreto che vada a giungersi a quanto fatto dal governo nazionale con l'emendamento alla legge di stabilità che ha portato alla creazione di un fondo di 100 milioni con l'auspicio che sia fatta chiarezza ovviamente sulle responsabilità vogliamo ricordare di nuovo come il decreto abbia consentito di salvaguardare anche migliaia di posti di lavoro e un milione di clienti allo stesso tempo però siamo colpiti naturalmente esprimiamo la massima solidarietà il massimo sostegno nell'ambito delle nostre competenze a quei risparmiatori che hanno visto il loro patrimonio investito in buona fede in obbligazioni subordinate io per questo diciamo oltre che la valutazione della predisposizione della misura a cui ho fatto riferimento penso che noi dovremmo fare una serie riflessione approfondita magari anche in sede di commissione su come su qual è il rapporto tra l'utente consumatore e la banca perché qui sul tema dell'informazione della trasparenza del rispetto come dire di una carta dei servizi che deve mettere in chiaro quando ci si rivolge a un utente a un piccolo risparmiatore come ci si deve comportare io penso che ci sia anche uno spazio di ragionamento rispetto al quadro delle nostre competenze sul cui vale la pena di approfondire il ragionamento grazie prego consigliera Carbonari grazie allora sì sono al corrente di questo fondo fondo predisposto dalla regione a sostegno dei risparmiatori coinvolti però ho avuto modo di leggere mi sembra un diciamo un molto fumoso ancora probabilmente vedremo poi l'effettività e come verrà strutturato questo fondo perché sicuramente ci sono dei principi ma non abbiamo la contezza dell'ammontare del fondo verrà attivato quindi nel prossimo bilancio 2016 parliamo chiaramente dell'indennizzo delle spese legali di quei risparmiatori che ricorreranno appunto che tenteranno diciamo che provvederanno ad intentare una causa civile e anche qui però facciamo riferimento anche in questo caso a un valore di sé che non si conosce quindi il dubbio qual è è che magari il valore di sé costituisca una barra e quindi pochissimi saranno i soggetti che veramente potranno soffrire di questo fondo perché chi non ha poi chi ha un livello di sé molto basso neanche ci proverà ad intentare una causa civile ma al di là di questo fondo poi vedremo l'effettività quando ce lo presenterete definitivamente la mia interrogazione chiedeva appunto di capire se c'è stata una corrispondenza tra voi il governo nazionale proprio per sollecitare il governo a prendere dei provvedimenti per il risarcimento effettivo lei mi ha detto qualcosa c'è stato poi diciamo che in definitiva non ho ricevuto non sono soddisfatta di questo mi riservo poi di valutare il fondo nella sua nella sua costruzione grazie bene concludiamo qui la seduta dedicata al question time a più tardi grazie